E' finita dopo mezzanotte l'odissea dei 180 passeggeri che hanno trascorso l'intera giornata all'aeroporto di Caselle in attesa del volo meridiana diretto a Cagliari. I viaggiatori avrebbero dovuto imbarcarsi a Torino alle 11 e 15 ma al momento di registrarsi hanno scoperto che l'aereo non era disponibile. Dopo circa 12 ore sono saliti su un velivolo arrivato da Napoli alle 22 e 30. La compagnia racconta uno dei viaggiatori in partenza per le vacanze non ha mandato nessuno ad avvisarci, non un email, non un dipendente, non una telefonata. Abbiamo provato a chiamare un numero a pagamento ma senza ottenere risultati. I passeggeri parlano dei disagi provocati dall'attesa, chi ha dovuto pagare una penale per il mancato ritiro dell'automobile che aveva preso a noleggio a Cagliari, chi ha dovuto rinunciare a gite ed escursioni già programmate.